Tartarughe Ninja della IDW numero 52, ora in tutte le fumetterie e librerie specializzate. Primo sangue, ragazzi, questo è l'inizio ideale per cominciare a leggere questa serie. Kawabanga tutti quanti e bentornati nella rubrica Tartarughe Ninja, oltre che nella rubrica fumetti, ovviamente. Se questo è il primo video del mio canale che vedete, sappiate che io parlo della serie regolare della Tartarughe Ninja dall'IDW che esce ormai bimestralmente solo in fumetteria e nelle librerie specializzate, non più in edicola, al costo oscillante tra i 9,90, come nel caso di oggi, dove però ci sono 88 pagine, e 11,90, quando ci sono più pagine, 109, 112 pagine, e quando non esce, quando non esce la serie regolare, ripercorro i vecchi numeri. Quindi nelle altre settimane, quindi ogni sabato e domenica, io parlo dei numeri addietro, di cui non ho parlato quando erano usciti. Il mese prossimo, che è il mese di marzo, ve lo dico già, sarà tutto dedicato al crossover fatti con Batman, in concomitanza dell'uscita del film di Matt Reeves, The Batman. I prossimi sabati, o i prossimi weekend, parleremo dei tre crossover tra Batman e le Tartarughe Ninja. Prima di cominciare vi chiedo, se non lo avete ancora fatto, di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace, a un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che vi frega di condividere il video con tutte le persone che hanno un guscio e di commentare qui sotto, con quello che ve ne è parso, di questo numero. Come potete notare, nella seconda di copertina, questo numero raccoglie quattro storie originali americane del 2019. Tra queste quattro storie, la terza storia è quella che è stata data in omaggio in occasione del Free Comic Book Day, che è appunto una ricorrenza annuale che c'è anche qua in Italia, dove le case editrici regalano un fumetto. In questo caso hanno approfittato, devo dire, hanno fatto un ottimo lavoro, perché nel fumetto che hanno regalato, che è poi la terza storia di questo albo, fondamentalmente fanno un mega riassuntone dal punto di vista di uno degli esseri sovrannaturali di questa storia, quindi uno di quegli esseri che vede un po' tutto, fa questo mega riassuntone dall'inizio di questa saga fumettistica fino ad oggi e questo permette appunto a un nuovo lettore di affacciarsi a questa collana. Quindi se non avete i vecchi numeri, con questo numero potete farvi una bellissima infarinatura, in attesa che io continui a spiegarvi nei video i successivi numeri, però qua potete farvi una bella infarinatura per cominciare a leggere questa collana. Come se non bastasse il prossimo bimestre o il prossimo mese, perché dovrebbe uscire a marzo, questo numero di febbraio in realtà è in ritardo, doveva uscire a gennaio, la prossima uscita ci sarà, oltre al numero regolare, ci sarà anche una sorta di, diciamo, brossurato, non lo so, ci sarà un mega cofanetto con tutti i vecchi numeri contenuto nel cartone di una pizza. Questa cosa l'hanno mostrata nel giornale anteprima, quindi anche lì se volete recuperare i vecchi numeri potete tranquillamente andare dal vostro fumettaro di fiducia e prenotare il prossimo numero in modo che avete una fantastica confezione, con una fantastica edizione, avrete anche un numero inedito che io non avrò, nel senso che io che ho questi numeri non credo comprerò questa edizione, però ci sarà anche un numero inedito e quindi avrete anche del materiale nuovo. Quindi andate in fumetteria e prenotatelo. Per chi invece le storie le ha già lette tutte, ovviamente questa terza storia è strana perché non ti fa capire dove va a parare. Io l'ho capito solo alla fine quando ho visto da dove è stata tratta che fondamentalmente era un bel riassuntone, però non aveva molto senso per uno che ha già letto tutta questa storia. Sono molto comunque felice che lo abbiano messo dentro qua in Italia perché, come sapete, non c'è una grossa continuità nelle uscite di questa collana e quindi sono felice che abbiano fatto un riassunto proprio per guadagnare nuovi lettori. Spero che rinvestano di più in questa collana, pare che lo stiano facendo, speriamo. Per quanto riguarda invece le altre tre storie, ragazzi, si sta arrivando a un nuovo inizio. Sempre per citare la terza storia che parla continuamente di inizi, si sta per giungere a un nuovo inizio perché è successa quella cosa che i fan delle tartarughe ninja stanno osservando su internet da un paio d'anni ormai. Ovvero, Jennika, la chunin del maestro Splinter, come sapete il maestro Splinter ormai è diventato capo del clan del piede a seguito della morte di Orokusaki, a seguito della fine della faida tra Amato Yoshi e Orokusaki dove Amato Yoshi ha prevalso uccidendo Orokusaki, sempre seguendo gli stilemi ninja, ecco, quindi diciamo con onore, tra virgolette. E Splinter, per tradizione, si è preso il carico di comandare il clan del piede. Questo per parecchi numeri, se non sbaglio dal numero 30-32 è successo una cosa del genere. Siamo al numero 52, quindi sono 20 numeri che Splinter è a capo del clan del piede. Il clan Amato, ovvero le tartarughe ninja, su questa decisione non è stato affatto d'accordo soprattutto Michelangelo che se ne è tolto fuori fin dall'inizio per poi essere raggiunto anche dagli altri tre fratelli che hanno, diciamo, un loro clan a parte che è il clan Amato. Ora, finalmente, il maestro Splinter è stanco di tutta questa violenza che è costretto a usare costretto nel senso che per non farsi prevalicare dalle altre bande che infestano la città di New York lui deve usare il classico pugno di ferro alla clan del piede ma è molto stanco e approfitta del ritorno della nipote, in questo caso, della nipote di Oroku Saki, Oroku Karai del ritorno dal Giappone di Oroku Karai per cederle, per farle una proposta di cederle il clan del piede Oroku Karai è tornata proprio perché vuole riprendersi il clan del piede e Splinter non potrebbe essere più felice di questa occasione quindi seguono dei trattati su come gestire le cose che sta gestendo adesso il clan del piede le cose lasciate aperte c'è una, diciamo, una seduta molto pacifica all'inizio tra la famiglia del maestro Splinter quindi le tartarughe e Splinter da un lato e Karai e i suoi tre mutanti che sono Blageon, Koya e Ocho che sono questo squalo che è diventato cieco questa, adesso non so quale volatile sia non è un piccione, non so se era un'aquila comunque che gli erano state rotte le ali, credo, da Leonardo e Ocho che io onestamente non credo di averlo visto in precedenza ma c'è una storia di Karai che ancora non abbiamo letto quindi presumo che sia quella la storia inedita che vedremo nella prossima uscita dove appunto si mostra come Karai riesce a recuperare questa spada che porta con sé e presumo che lì conosca anche Ocho Karai possiede questa sorta di spada che ha una, diciamo, una lama fiammeggiante ecco, ricorda molto un mix tra la spada, quella di Wolverine quella che riesce a recidere qualunque cosa e a impedire anche il fattore mutante, il fattore rigenerante di curarsi e un misto tra quello e una spada laser perché non ha una vera e propria spada ma esce questo dardo di fuoco ecco, questa spada è chiamata la spada maledetta come stavo dicendo, i trattati stanno svolgendosi abbastanza pacificamente quando però si arriva a un punto nodale molto forte che è stato introdotto qualche numero fa ovvero le tartarughe ninja hanno salvato adesso scusate la mia memoria a breve termine che non è il massimo dei tartarughe ninja hanno salvato degli orfani e li hanno accolti o meglio, li hanno portati dal loro padre al clan del piede perché comunque loro quattro non hanno le risorse per gestire dei bambini e oltre che sono delle tartarughe mutanti li hanno portati nel clan del piede dove il maestro Splinter si è prefissato di prendersene cura insieme appunto alla sua Chunin cioè alla sua seconda in comando che è Jennika e a Casey Jones che adesso è al comando dei Draghi Viola e tutti in qualche modo collaborano anche a tenere al sicuro questi orfanelli un punto nodale di questo trattato con Karai è che Splinter non vuole assolutamente che questi orfanelli vengano cresciuti dal clan del piede con lo scopo necessariamente di farli diventare dei soldati del clan del piede è una cosa invece su cui Karai non transige Karai vuole assolutamente che se gli orfani sono presenti nel clan del piede è perché saranno obbligati a diventare dei soldati del clan se si rifiuteranno verranno uccisi su questo punto ovviamente scatta la rabbia di Michelangelo che quando si tratta di toccare le corde più sensibili di questi argomenti è quello che più perde il controllo anche più di Raffaello e quindi i trattati di pace vengono subito portati a termine da questo punto nodale su cui i due clan non riescono ad andare d'accordo Karai alza subito questa spada fiammeggiante verso Splinter e verso i tartaruga ninja fortunatamente in loro soccorso arriva Genica, Casey Jones e il clan del piede che fondamentalmente li fa sloggiare li caccia fuori dalle balle dal clan del piede in modo che non scatti un combattimento in tutto questo non so perché c'è una paginetta ambientata nel pianeta neutrino dove mostrano il fuggitoide e i neutrini che stanno chiacchierando e il fuggitoide si accorge che presto arriveranno dei guai però è solo un inciso così di una pagina e non ci mostrano altro la storia principale invece prosegue con l'ennesima discussione tra Leonardo e Raffaello dove comunque do ragione stavolta o meglio io sono un po' sempre dalla parte di Raffaello però in questo caso lo posso anche capire dal punto di vista logico perché se da un lato c'è Leonardo che sta cercando di organizzare un perimetro per evitare di avere degli agguati sia nella loro base sia al clan del piede sia dove c'è il quartiere dei muta animali e quindi chiede appunto a Raffaello di andare a stabilire un perimetro tra la loro base e la base dei muta animali che sono quelli comandati da vecchio diavolo dove c'è anche Pete il piccione dove c'è Coraggio che è il mutagen man eccetera dove c'era anche Slash prima che si sacrificasse nel numero scorso perché aveva una bomba impiantata addosso e tutte queste cose unite appunto a quello che ha appena detto riguardo a Slash a Raffaello stanno pesando davvero tanto quindi Raffaello non vuole per l'ennesima volta prendere ordini da Leonardo ma stavolta non c'è in lui una rabbia adolescenziale c'è solo tanta tanta stanchezza lui dice sono stanco di tutto questo schifo io direi che semplicemente prendiamo armi e bagagli e ce ne andiamo da New York ce ne scappiamo via perché non è la nostra guerra non è giusto che la nostra vita sia sempre un eterno schifo totale per colpa di vecchie tradizioni per colpa di vecchi clan di cui lui non ha mai chiesto di far parte mi dispiace un pochino che abbia tirato in ballo il fatto che in questa versione Raffaello è stato da solo durante la sua mutazione perché si era perso all'inizio della storia e sembra quasi che questo suo carattere distaccato dagli altri tre fratelli sia dovuto a questo suo crescere da solo e un po' mi dispiace perché il fatto che Raffaello abbia questo carattere difficile così particolare mi sarebbe piaciuto se fosse stato a prescindere da come è cresciuto cioè anche con i suoi fratelli si fosse sentito comunque sempre un po' più solitario invece qui c'è fondamentalmente un motivo molto molto palese sul fatto che spesso lui è distaccato dei suoi fratelli ovvero il fatto che purtroppo la sua mutazione e parte della sua vita mutata parte dalla sua vita intendo qualche mese l'ha vissuta non sapendo chi fosse non sapendo cosa fosse girando per le strade di New York cercando di cibarsi qua e là finché i suoi fratelli non lo hanno ritrovato la cosa che mi è piaciuta molto è che nonostante le lamentele di Raffaello Raffaello esegue comunque gli ordini di Leonardo e quindi va a stabilire un perimetro tra la loro base e quella di Vecchio Diavolo qua incontra appunto Vecchio Diavolo che sta preparando un attacco alla nulla questa strana organizzazione comandata da una sorta di diavolessa che non si è mai capito cosa fosse se fosse una mutante se fosse appunto un essere strano di cui non siamo a conoscenza io spero che la nulla venga esplorata meglio più avanti perché non si sa assolutamente nulla di questa organizzazione sta di fatto che è molto pericolosa è peggio della stock gen in quanto a tortura dei mutanti in quanto a crescita dei mutanti per usarli come soldati e quindi Vecchio Diavolo vuole organizzare una sorta di attacco terroristico alla nulla e si imbatte in Raffaello Vecchio Diavolo comunque è molto astuto e conosce benissimo il carattere di Raffaello e vuole in un certo senso metterlo a parte di questa cosa con nostro stupore Raffaello nonostante detesti Vecchio Diavolo accetta di far parte di questa operazione di questa operazione terroristica verso la nulla quindi il mio timore è che nei prossimi numeri vedremo un Raffaello in un certo senso molto più affiliato ai mutanimali che non alle tartarughe stesse come se non bastasse c'è Metalhead che onestamente io non ricordo quando è successo Metalhead era sempre stato un robot vuoto un guscio a distanza che è stato tra l'altro anche tra virgolette posseduto dalla coscienza di Donatello per un breve periodo io non ricordo quando è successo ma adesso è un'intelligenza artificiale a tutti gli effetti ha una sua coscienza propria un po' come visione degli Avengers e la cosa un po' anche come nel cartone animato dell'87 che è un robot con la sua personalità quello che però assolutamente non ricordo è perché sia così un personaggio negativo infatti lo vediamo allearsi con Bishop della Forza Protezione Terrestre vuole fare un upgrade e in cambio gli porterà le tartarughe userà le tecnologie della FPT per fare un upgrade su se stesso tra l'altro lo abbiamo visto già molto più alto rispetto a quando lo avevamo visto nei numeri scorsi tornando alla storia principale dopo l'incomprensione tra Karai e il maestro Splinter Karai vuole comunque organizzare una chiacchierata in un territorio neutrale senza armi e senza mutanti tra lei e Genica appunto la seconda in comando di Splinter perché vuole trattare appunto il clan del piede attraverso diciamo attraverso la prima in comando che non sia una mutante fondamentalmente per una sorta di strano razzismo di Karai che non collima molto col fatto che si porta dietro dei mutanti suona moltissimo come trappola ma Genica vuole comunque accettare perché se c'è anche solo una possibilità di far evitare una guerra lei vuole coglierla quindi si presenta non senza precauzioni al punto di incontro c'è solo Karai credo sia il Central Park non lo so c'è solo Karai davanti a lei le tartarughe ninja la seguono da distanza occultati con la tecnologia di Harold Lila e comunque Casey Jones e Angel nella struttura diciamo nell'esoscheletro di nessuno sono comunque lì come suoi luogotenenti dal momento che loro sono umani e quindi non vanno a infrangere il patto fatto con Karai Karai chiede a Genica di tradire fondamentalmente il maestro Splinter perché la vede molto consacrata alla causa del clan del piede lei ha visto questo atteggiamento di difesa del maestro Splinter nelle tavole precedenti e l'ha visto come un modo molto forte di difendere il clan del piede di conseguenza Genica di conseguenza scusate Karai vuole comunque proporre questa offerta a Genica dicendo ok voglio che tu continui a difendere il clan del piede nella sua vera incarnazione e quindi tradire il maestro Splinter e diventare la mia seconda in comando in quanto io sarò la prossima John Inn quindi la prossima prima in comando del clan del piede Genica gli spiega spiega a Karai che in realtà lei non è così sì è vero il clan del piede l'ha presa dalla strada e gli ha dato una via una via che però l'ha resa un'assassina l'ha resa un'arma e tant'è che quando il clan del piede ha cambiato il comando quindi da Shredder è passato al comando di Splinter Genica voleva addirittura uccidere il maestro Splinter e il maestro Splinter le ha aperto gli occhi le ha spiegato una via diversa quindi lei in realtà spiega a Karai che non è legata veramente al clan del piede ma è legata al maestro Splinter lo vede come una figura paterna e tutti questi step servono a farci capire quanto Genica sia in un certo senso un membro acquisito della famiglia soprattutto in vista di quello che succederà nel prossimo numero Karai ha presa questa notizia che ripeto a parer mio l'ha presa in maniera sincera cioè non era una vera imboscata gli ha dato proprio una possibilità quando ha visto il rifiuto alla sua offerta da brava ninja senza scrupoli senza pietà ha tirato fuori la spada maledetta e l'ha trapassata quindi gli ha provocato una ferita davvero grave ed è stata subito diciamo Genica è stata subito soccorsa dalle tartarughe ninja ci hanno mostrato che anche Karai non era venuta a mani vuote quindi tutti i loro tutti i suoi mutanti che tra l'altro se ci fate caso uno è di acqua uno è di terra e uno è di cielo quindi ci sarà Blagion che dall'alto stava controllando tutto c'era Ocho che sotto terra ha scavato e ha salvato Karai e c'era adesso non mi ricordo lo squalo l'ho chiamato l'ho nominato prima comunque lo squalo stava girandosi attorno al fiume Azzon per diciamo stabilire un perimetro quindi anche lei era scortata dai suoi mutanti questi mutanti impediscono in un certo senso le tartarughe comunque rallentano le tartarughe dal cercare di salvare Genica nel portarla all'ospedale con il loro furgone cercano comunque di arrivare all'ospedale più vicino quando arrivano scoprono che non solo Karai ha portato con sé dal Giappone i suoi tre mutanti ma è riuscito a recuperare un folto clan di ninja che ha portato a New York e tutti questi ninja sono attorno all'ospedale proprio per impedire alle tartarughe di salvare Genica quindi era tutto un nonostante ripeto per me le intenzioni di Karai fossero sincere aveva studiato alla perfezione anche l'eventuale rifiuto di Genica con la morte certa di Genica Karai vuole che Genica muoia dopo il suo rifiuto per ferire anche il maestro Splinter e dichiarare guerra e da qua anche il titolo del numero primo sangue non riescono a portare Genica in ospedale quindi si rivolgono ad Harold Lila che appunto è lo scienziato che aiuta spesso le tartarughe ninja non sanno assolutamente come fare Donatello ha un piano e ha chiesto alla scienziata che collabora con i mutanimali che si chiama Libby mi sembra se non sbaglio e ha chiesto anche a April O'Neil tutto l'aiuto possibile fondamentalmente se non ricordo male April O'Neil aveva una sorta di tè che ha aiutato suo padre a guarire da qualcosa però non vorrei davvero confondermi con il cartone animato ma mi sembra che anche nel fumetto ci sia stato qualcosa del genere io credo che Donatello voglia usare questa sostanza per cercare di curare Genica se non vivete isolati dal mondo sapete già cosa succederà a Genica nel prossimo numero sarà un evento che spaccherà in due i fan io onestamente non so ancora come vivere questo forte cambiamento sicuramente attualmente non è un cambiamento che io gradisco però voglio vedere da lettore quando leggerò le storie se la cosa potrò digerirla fatemi sapere voi cosa ne pensate fatemi sapere voi se sapete già di cosa sto parlando scrivetelo qua sotto magari scrivete prima spoiler se qualcuno non vuole scoprirlo niente se invece non sapete di cosa sto parlando state sintonizzati perché tra due mesi succederà qualcosa di fondamentale per il corso di questa serie delle tartarughe ninja io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui come sempre con l'inchino e con l'inbuto vi saluto vi dico arrivederci al prossimo video ciao a tutti Grazie a tutti.